termine che sta a significare arte grezza è stato cognato da jean dubuffet per indicare un'arte prodotta da persone al di fuori del mondo dell'arte ufficiale solitari e disadattati pazienti di ospedali psichiatrici detenuti ed emarginati di ogni tipo l'ideatore del concetto di art brut è jean dubuffet pittore scultore litografo e scrittore francese preferiva l'approssimazione spontanea all'abilità professionale ed era affascinato dai graffiti e da ciò che lui chiamò per l'appunto art brut ma sono molti altri nomi legati a questo tipo d'arte solo per citarne alcuni adolf wolfley ferdinand cheval guerino galzerano e tarcisio merati dubuffet cominciò a mettere insieme la sua collezione di art brut nel 1945 e nel 1972 dopo aver raccolto più di 5.000 pezzi la presentò alla città di lausanne dove fu aperta al pubblico al castello di beulier nel 1976 possiamo dire che il luogo di nascita ufficiale sia stato la svizzera e in particolare la città di lausanne jean dubuffet riteneva che l'art brut fosse la prova di una capacità creativa che tutti possiedono ma che nella maggior parte delle persone è soffocata dalle pratiche dell'istruzione e dagli obblighi sociali l'artista rifiutò il concetto di arte psichiatrica e fece anche una netta distinzione tra l'art brut e l'arte naif sostenendo che i pittori naif appartengono alla cultura ufficiale e sperano in un riconoscimento pubblico mentre gli artisti dell'art brut creano le loro opere per uso personale come una specie di teatro privato se il video ti è piaciuto metti un bel like lasciami un commento condividilo con i tuoi amici ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video ciao